ciao ragazzuoli da sabato tregoci qua su minecraft xbox one allora che famo in questo episodio una cosa che volevo fare mentre sventravo la montagna mi è venuto in mente una cosa ok perfetto viste che qua c'è la neve però qua non va bene allora ero andato per di qua a vedere un'altra cosa qua c'è la neve c'è anche una grotta c'è vabbè questo schifo qua che lo tiriamo via in 0 2 allora non ti dimentico che fa buio già adesso se mi sono appena svegliato eh no ah è vero avevo risposto a una telefonata prima di iniziare a registrare allora in codesto gam apply che famo allora mi è venuto in mente una cosa molto carina da fare infatti mi sono portato viaggiato tutto 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 allora io direi ma partiamo da da qua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 c'è basta ma sì che c'è basta dai guardate quanto legno di betula che ho fatto ah sì ah sì scusate ah sì io spero che non spawni nessun creeperino qua sono nato oltre qua va qua o va qua o va là fatemi vedere lascio uno così perché 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 va bene qua lasciato uno sì ma la tocca qui prende qui non prende porca miseria qua andiamo così dai se no non c'ho la giusto che tattica ha però ragazzi scusate quando una furbo furbo e si sta un attimo vedete via torniamo buttare dentro questo diciamo un kit per quando viaggio in giro ciò da mangiare carbone c'è un po di cosa questa non la tocco questa sul box school box lei come cavolo sicché sul che al sul che era ecco no qua ok uno in quasi va bene dai poi direte ma che stai a fa che stai a fa e adesso lo capirete bene quando riempito tutto tanto ci sta un attimo ho esagerato che materiali ma va bene così ecco allora sì perfetto così tutto in legno la faccio poi vedrete perché poi capirete il perché questa cosa va fatta tutta 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 in legno ok perfetto possiamo fare così che stiamo prima perfetto ok fatto manca il contorno ho esagerato coi blocchi però diciamo che ci sta ok fatto amannaggia gli scalini però dai possiamo usare così non li ho portati non ce li ho va bene non mi interessa allora qua ho trovato anche qualcosa di comodo mo io mi butto così ma dovrò fare una specie di e dai è però è per uscire la allora sei ma riprendono cinque quattro tre due uno ok ne ho nove ho preso tutti gli discechi i tutti i secchi che avevo adesso vedete ma no 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 ho sbagliato va bene dai qua e viene avuta fuori un po storta era meglio che veniva qua nell'angolo ma ci recuperiamo un po di un po di più allora mettiamo questo qui questo lo mettiamo qui allora iniziamo a mettere uno qua poi li togliamo quelli in più tac 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 allora ragazzone perché ho fatto questo perché praticamente questa qua adesso voi la vedete io sono un genio ok una l'ho messa eh però qua va bene dai mettiamo anche questi due lì tre qua va bene dai mettiamo anche dall'altro lato qua poi è un po' qua poi qui poi qui mancano eh sì perché io sono arrivato qui manca questo anche questo ma se lo riempio da qua eh non me lo fa riempire maledetto sono finiti sono finiti dammi qua ma questi li lasciano li tolgo tiè tanto secchio non costa niente farlo ok eh dove manca ah mancano qua in mezzo manca qua eh buh manca dove anche eh dai è però eh forse l'ho fatto un po' troppo grande forse mancherà qua manca ma in teoria no in teoria giusto teoria siamo a posto ragazzuoli allora questa è una farm di eh ghiaccio e come funziona praticamente allora perché ho messo questi blocchi colorati cioè colorati buongiorno perché ho messo questi blocchi eh di colore diverso e soprattutto perché è tutto in legno perché il ghiaccio si romperà col piccone quindi se ci fosse stata pietra l'avremmo spaccata malamente invece vedete se uso il piccone posso tranquillamente picconare che non è come picconare sulla vedete come si rompe invece qua ce ne vuole un bel po' eh gli slab sopra le questi qua le lastre sopra li ho messi sopra i cosi colorati non fanno ghiacciare l'acqua perché siamo a una quota dove c'è la neve sopra i 90 blocchi non c'ho la mappa ma penso che siamo oltre i 90 blocchi non di qua che mi prende il coso è buono di qua cado va bene dai e quindi praticamente adesso si formerà del ghiaccio piano piano ah è già formato vedete non sul sotto lo slab ecco vedete che si comincia a formare il ghiaccio vedete adesso questo qua piano piano passando il tempo si formerà sarà tutto ghiaccio questo e quindi abbiamo la nostra farm di ghiaccio che però io come un furbo non c'ho il piccone con tocco di velluto e quindi se spacco il ghiaccio non prendo il ghiaccio ma torna acqua questa è la sfortuna di questo vabbè qua ho esagerato un po' con le misure ma sapete che vi dico casomai la chiudo c'ho il legno eh dai eh c'ho il legno quindi la chiudo così viene un po' più decente così anche per camminare viene meglio e alla fine ho raccolto cioè ho messo sbagliato quello e ho raccolto il pezzo schifoso che non me ne faccio niente che ne ho miliardi vedete che si riforma il ghiaccio allora e beh se lì l'ho fatta larga 2 ah la deve toccare quindi anche qua di conseguenza ah la faccio larga 2 così viene più bella ok ah ecco guardate qua si sta formando a bombazza allora non posso vedete non posso raccoglierlo eeeh vabbè fa niente adesso allargerò qua comunque avete capito vedete qua è ghiaccio si scivola e intanto passa un altro giorno bene ragazzuoli eeeh beh qua adesso mi toccherà no mi toccherà adesso qua devo illuminare con delle torce onde evitare spawn di mostriciattoli cattivi qua metterò degli scalini e poi devo anche allargare ah no ma forse il ghiaccio no non dovrebbe scioglierlo no penso che se io metto una torcia qua non lo scioglie vediamo devo controllare non mi fido allora qua adesso siccome ho una quantità industriale di legno potrei allargare di uno tutto così viene più o meno uguale buongiorno eh cavolaccio tutto legno dai tiè così imparano anche di qua ecco intanto ho raccolto di nuovo quella schifo di così almeno viene più bella da vedere tac così così perfetto ok ah sì 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 allora via 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 immediatamente la torcia ha fatto formare il ghiaccio ho capito ho capito bene ragazzuoli allora io qua sistemo le torce negli angoli nei punti dove non rompono le scatole io come sempre vi ringrazio spero che questa farm vi piaccia come sempre commentate scrivetevi lasciate mi piace eccetera eccetera io vi ringrazio vi saluto ciao ragazzuoli sono Bruno3 bye bye bye